Musica Musica Peppe Lanzetta a Cava di Tirreni, presentazione del libro Infernapoli, la prima volta che vieni a Cava? Sono stato già a Cava, negli anni scorsi ho fatto anche degli spettacoli, però sono letteralmente stupito, lo dico fuori dai denti, dalla bellezza assoluta di questo posto che credo sia una delle cose più belle che la mia carriera d'artista abbia visto, quindi devi andare a Berlino, a Londra per immaginare un posto simile, quindi ci sono venuto sapendo che era bello però ho scoperto che è stupendo Parliamo del libro, dopo il grandissimo successo del secondo libro, il primo libro era? Dunque, questo qua credo che sia il tredicesimo, il primo era Una vita post datata del 91 Quello invece che si ricorda molto è Figli di un Bronx Minore perché aveva la prefazione di Renzo Arbore, la maggior parte pubblicati con la Feltrinelli, questo è il mio primo con la Garzanti Tocchi sempre le tematiche di una Napoli che c'è ancora e che continuerà ad esserci probabilmente? Guarda, io credo di sì, sebbene in questo romanzo abbia fatto un tentativo, quello di bypassare Napoli, c'è un regista argentino che mi ha chiamato per un'eventuale trasposizione cinematografica di questo Lui è di origini italiane e mi ha detto, la cosa che mi è piaciuto in questo romanzo è l'universalità dei sentimenti, quindi io mi sarei allontanato da un cliché dove Napoli diventa l'ombelico del mondo Ma ho cercato di lavorare su quello che è l'estensione, l'allargamento dei sentimenti Diceva Pino Daniele, Napoli è una carta sporca e nessuno sono morti, è ancora così? Napoli è tanto di più, tanto di meno, ma voglio dire è il crocevia di ogni etnia possibile, ma è l'unico luogo dove ancora se vuoi puoi trovare un refolo di umanità E io mille volte sono andato via, ma mille volte sono ritornato a un rapporto ondivaco, conflittuale con la mia città E in queste pagine esce fuori con grande forza Metti un pote di Napoli esce fuori nell'ultima pagina in cui ringrazi le Sant'Anne, le varie Sant'Anna Sì, in realtà all'interno di questo romanzo che è la storia di un boss, io non ho voluto parlare di un boss Ho voluto parlare della sensibilità e della fragilità di un boss Il rapporto che lui ha con le tre figlie, siccome questo boss è atipico perché prima uccide le persone e poi ascolta Maria Callas e piange Lui ha chiamato le sue tre figlie, una Maria Sole, una Maria Stella e una Maria Luna in onore a Maria Callas Detto questo c'è anche un tentativo di essere abbastanza palp, di riderci sopra Per cui c'è il grottesco, c'è il paradossale, c'è il surreale Ci sono vari ingredienti mischiati in quella che fosse la mia cifra più congeniale Come dice Vasco Rossi, una sorta di equilibrio sopra la follia Peppe tu a vent'anni avevi un posto in banca e lo hai lasciato, hai fatto delle scelte sulla tua pelle, le hai pagate E oggi chi è Peppe Lanzetta? Oggi Peppe Lanzetta è una persona che in qualche modo sta recuperando anche una sorta di autostima Perché poi sai, quando non si è allineato, il tentativo che fanno è quello di fartela perdere Grazie ai figli di quelli che in qualche modo mi osteggiavano, oggi io ho recuperato tante cose belle Ho capito che forse ero leggermente avanti coi tempi e ho dovuto, ahimè, aspettare che certe cose come le mele, le nespole maturassero Napoli ha bisogno di tante cose, secondo te oggi la cosa di cui ha bisogno di più Napoli qual è? Secondo me quella di cui ha sempre avuto bisogno, dignità e lavoro E la tua ricetta per uscire fuori da un inferno? Io credo che Napoli rimarrà sempre un inferno, nonostante tutto Perché l'idea dell'inferno è insita nella cultura, secondo me, di una città angelica e diabolica Però sostanzialmente, come ti dicevo prima, se uno sceglie di viverci, di rimanerci è perché altrove ha visto altri inferni Tant'è che la protagonista, cioè una delle figlie del boss, scappa via e se ne va a Londra Cercando di trovare un respiro e capisce che va incontro ad altri inferni Quindi lei capisce che la vita continua e la guerra pure Sostanzialmente questo è il senso dell'esistenza Quindi questo sarebbe un libro apparentemente su Napoli, ma molto profondamente sull'anima Tu sei passato da Maradona nel libro a Amsic, Lavezzi e Cavani Gente che con la faccia scavata e con la depressione che si legge sul viso vanno a giocare le scommesse nello strike E pensano di cambiare la loro vita Napoli ha ancora bisogno di correre dietro a un pallone? Napoli ha bisogno di correre, Napoli ha bisogno di sogni, come tutti Voglio dire, è chiaro che nei posti dove c'è miseria, dove c'è degrado Il sogno dietro l'angolo diventa immediatamente il totem con il quale tu azzeri tutte le tue sconfitte Il lotto, il calcio, ma non basterebbero cento antropologi per spiegare il perché di tutto questo E il perché poi gli scrittori, in qualche modo, secondo me, gli artisti sono affascinati da questa ninfa plebea Da questa città, secondo me, unica, nel bene e nel male Quali sono le prerogative della napoletana e quali invece il peggior difetto di un napoletano? Io dunque credo una cosa, Napoli sia per certi versi una città classista E' più facile che un napoletano della città alta vada alle Secele che non a Secondigliano Questo già te la dice lunga sul fatto che c'è un razzismo, un classismo che si camuffa Io vengo dai quartieri popolari, quindi in qualche modo potrei avere una sorta di atteggiamento al contrario Ho cercato negli anni di imparare a dosare anche la mia rabbia All'inizio suonava il rock, la mia rabbia Ma forse un po' di blues, sostanzialmente credo che il tempo abbia lavorato in questo senso qua E mi sono detto che la risposta forse non è nel possedere, nel danaro, nell'opulenza, ma nell'essere Quindi ritorniamo a Shakespeare Tu mi dicevi anche prima parlando di Torlequinte che hai avuto dell'esperienza anche a Scampia Oggi Scampia, Levele, Secondigliano, dei posti che in qualche modo qualcuno conosce solamente per nome Tu ci sei passato, ci sei anche vissuto in alcuni momenti della tua vita Perché Scampia? Perché Secondigliano? Cosa possono essere e cosa devono essere? Ma guarda, innanzitutto bisognerebbe dire che c'è anche una colpa, assolutamente una colpa politica Nel senso che hanno deciso che quei posti in qualche modo dovessero essere ricettacoli per malavita e droga Questo è stato studiato a tavolino, non lo dico io Dopodiché, se tu consideri che quella è la piazza di droga più grande d'Europa, capisci com'è il senso Però c'è della umanità straordinaria, c'è della gente straordinaria C'è gente che fa volontariato, c'è gente che lavora sul sociale, c'è gente importante Ci sono dei presidi di legalità Io una decina di anni fa ho fondato un gruppo che si chiamava i ragazzi del Bronx Poi la politica voleva comprare, in qualche modo volevano metterci il cappello Io poi da buon ribelle me lo sono difeso E uno dei ragazzi che componevano questa band, questo gruppo Oggi fa il produttore cinematografico, 12 anni fa faceva le rapine Cosa è oggi Napoli per te? Napoli per me è l'idea di un Mediterraneo nuovo, un Mediterraneo possibile Io continuo a credere che possa essere il faro di un Mediterraneo possibile Un po' la fregatura l'abbiamo presa con la nostra sinistra Io ho sostenuto, e questo lo dico fuori dai denti Però voglio dire, oggi sono rimasto molto deluso da quello che si poteva fare e non si è fatto L'arte poteva molto, ma non l'arte contrabandata attraverso i posti tipo il madre Io parlo di arte come strumento che tu dai alla gente, al popolo per prendere coscienza Sei un ragazzo appunto di un quartiere disagiato, sei un ragazzo che tu dai gli strumenti per interagire, per capire, per crescere Tu stai facendo un'opera di istruzione, tu stai istruendo una persona e stai collaborando alla crescita di quelle persone Chavez in Venezuela ha messo le donne del popolo nel comune di Caracas Ai bambini nelle scuole ha imposto di studiare internet, di andare con i computer Io credo che un'idea nuova di mondo ci possa essere Dobbiamo uscire da un individualismo, da un personalismo e dobbiamo uscire dalla politica dell'arraffare Dell'imbroglio e della corruzione che ci ha portato dove stiamo Come si vede Beppe Aranzetta fra un anno, fra cinque anni o fra dieci anni? Beh guarda, già è tanto se mi vedo, nel senso che voglio dire Io ho cercato di essere me stesso sempre, quindi ho attraversato momenti migliori di questo, momenti peggiori Quindi oggi alle persone che mi chiamano, io sono molto cercato dai giovani, mi chiamano e mi chiedono delle cose Io l'unica cosa che riesco a dare è sempre la speranza, anche quando io non ce l'ho Quindi sostanzialmente mi sarei fatto un abito mentale di uno che tutto sommato alla fine è ottimista Perché ha capito che nella vita le mazzate servono anche per farti crescere Vorrei che mio figlio che oggi ha vent'anni e che mi dice papà Biagio Itza è meglio E io gli vorrei far capire che non esiste uno migliore di un altro Poi è andato su Twitter e ha capito che Biagio Itza è un mio fan Ha detto ma che sta succedendo? La verità dove sta? In realtà come mi vedo? Mi vedo come uno che vorrebbe fare delle cose belle Magari stasera per esempio sono in un posto dove si fanno le cose belle Spero che ci siano tanti altri posti come questi Cava dei Tirreni alla quale sono legato per dei ricordi in alcuni spettacoli della villa comunale Dico bene? Mi fa piacere ritornarci perché poi ho scoperto che è un'isola a parte E quindi approfondirò la conoscenza di Cava dei Tirreni Dove ho degli amici comunque straordinari che saluto Detto questo spero che Infernapoli vi possa piacere e speriamo che diventi film Questo è l'augurio che mi faccio Questo è l'augurio che facciamo anche noi ma ci piace Peppe Lanzetta Quindi ci faccerà sicuramente anche in Libro Grazie e benvenuto di nuovo a Cava dei Tirreni Grazie a voi, buona serata Grazie a voi